2000 precari siciliani sull'orlo del baratro. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti bocciato l'emendamento che avrebbe stesso la proroga dei comuni in dissesto finanziario con una richiesta di riequilibrio dei conti, quindi il cosiddetto predissesto. Per questi comuni infatti, stando ai principi previsti dal decreto d'Alia, non è possibile procedere non solo alle assunzioni ovviamente, ma anche al rinnovo stesso dei contratti. E proprio per questo motivo si era pensata una soluzione da mettere nero su bianco al Senato dopo che la Camera aveva approvato la norma generale delle proroghe. Tra i comuni per i quali sarà quindi impossibile prorogare i contratti dei precari è anche un capoluogo come Catania, oltre a grossi centri come Bagheria, Cefalù, Augusto e Milazzo, e per restare in provincia di Messina anche Tortorici. Non rientrano invece nell'elenco dei comuni in predissesto, nonostante la notizia venuta fuori da Palermo, i centri di Ficarra, Caprileone, Sant'Agata Militello, Militello Rosmarino e Termevigliatore. Questi comuni, dopo un primo approccio, non hanno dato seguito alle procedure di riequilibrio. Complessivamente sono 22.500 i lavoratori degli enti locali siciliani, quindi comuni, ex province ed ASP, i cui contratti scadono tra otto giorni. Nei giorni scorsi la Commissione Bilancio della Camera aveva dichiarato ammissibile l'emendamento all'articolo 21 della legge di stabilità che consente la proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti dei precari degli enti locali siciliani. Una proroga che dovrà essere confermata però dall'Assemblea regionale siciliana negli stessi giorni in cui l'ARS dovrà approvare l'esercizio provvisorio.